Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Siamo di nuovo a casa di mia nonna Guardate che bel cielo azzurro Penso che ce ne dovevamo andare Ma invece non è vero Aia che sole Speriamo che non cade No, non lo posso appoggiare Siamo da mia nonna E avevo programmato che coelide Giocavamo a palla Ma lei se n'è andata da mia zia Che vive qua vicino Ovviamente farò il video da sola A quanto pare Qua ci vive Mio zio Pino Nella casa che c'è là accanto La staccionata Così a volte io e Emily Ci parliamo da qua Infatti la saluto Sto facendo un video Su Youtube Ma certo Ma io li faccio Dai Amo fare i video Io gioco a palla No, non è TikTok E' Youtube Proprio Youtube Pum Pimmede Pimmede E' divertentissimo Con questa palla Grazie mille Pum Sono io la telecamera stessa Ma io sto giocando Ma io sto giocando Ragazzi pure voi da casa Andate nei cortili E prendete le palle E giocate Quando vedrete il video Perché prima lo devo caricare E' proprio divertente Ma ora mi fermo Andiamo nella macchinina Ehi che macchinina Sei su Youtube Ma non funziona niente Ragazzi Ragassuoli Vi amo Tutti quelli che mi seguono Sono fortunatissimi Perché ci sono alcuni Che vogliono stare con me Il pomeriggio Ed ecco La soluzione Che fa per voi Seguirmi Quindi se vi è piaciuto Questo video Mettete like E da la vigna Ciao Ciao ragazzi